ciao a tutti da maurizio di moto.it benvenuti su recensito si chiama anniversary tank fosforescente ed è marchiato print un'azienda brianzola che da 20 anni è specializzata nella realizzazione di adesivi e targhe facile capire di cosa si tratti è una protezione per il serbatoio fin qui nulla di strano verrebbe da dire uno come tanti ma sarebbe sbagliato pensarlo per due motivi uno visivo e l'altro tattile il primo l'effetto diurno opaco del camouflage si trasforma poi di notte o al buio in fosforescenza il secondo aspetto la grande morbidezza al tatto una vera e propria particolarità visto che tutte le altre protezioni per i serbatoi sono molto più rigide e dure queste due peculiarità sono coperte da brevetto print varianti colore solo una quella che vedete l'anniversario tank fosforescente è così ed è questo un po la sua mancanza avremmo preferito e usato con più colori diversi ok il camouflage ma con tante desinenze di colori garanzia due anni il prezzo è di 24 euro e 90 ciao a tutti da maurizio di moto.it vi aspetto alla prossima puntata di recensito ciao a tutti da maurizio di moto.it benvenuti a recensito dovete sapere che è un sandwich di più materiali la vestibilità è piuttosto stretta ma addentriamoci nel dettaglio quali sono le caratteristiche principali infatti pesano circa un terzo in meno rispetto alle batterie tradizionali vanta diverse accortezze e soluzioni che solitamente troviamo su giacche di fascia più alta si nota poi il sistema di ritenzione a cinghia con doppio anello